Nella giornata del 25 marzo, in occasione della solennità dell'Annunciazione del Signore, l'Ufficio Famiglia e Vita della Dioce si ha promosso un momento di preghiera a favore della vita nascente, in comunione con diversi movimenti e comunità diocesane e nazionali. Sono circa una trentina le associazioni cattoliche, tra cui l'Associazione Papa Giovanni XXIII, i Focolarini, l'Associazione Famiglie Numerose, il Movimento per la Vita, l'Azione Cattolica e tante altre, le quali si sono unite per un obiettivo preciso, chiedere al Parlamento di indire una giornata per la vita nascente, una giornata in cui parlare, nelle piazze, nelle scuole, nelle televisioni e nei giornali, della gioia di essere genitori. L'Ufficio Diocesano ha proposto in questa giornata la recita del Santo Rosario meditato con intenzioni di preghiera a favore della vita nascente. Hanno aderito all'iniziativa numerose parrocchie della Diocesi, facendo viaggiare via social le meditazioni per questa giornata così speciale per la vita della Chiesa, l'Annunciazione dell'Angelo a Maria, l'Incarnazione di Gesù, che apre lo spirito alla prossima Pasqua e, fra nove mesi, al Natale di Gesù. Come spiega Don Roberto Guida, responsabile diocesano dell'Equip per la Pastorale e Familiare, promuovere la vita deve essere una priorità anche per il Governo e il Parlamento. Mentre l'Italia vive da decenni una crisi demografica che sembra inarrestabile, le politiche per la famiglia subiscono gravi ritardi. Il dibattito pubblico sembra preferire l'incentivazione delle pratiche abortire, anziché gli strumenti economici e sociali più idoni, per accompagnare le mamme verso la scelta della vita e non della rinuncia al bambino che hanno nel grembo. Bisogna superare le tante ipocrisie e lottare per la vita e la dignità di ogni vita, dal suo concepimento alla sua fine naturale. Un segnale di ottimismo al termine della giornata è giunto dalle parole del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, che ha annunciato per il primo luglio l'entrata in vigore dell'assegno unico familiare. 250 euro per ogni figlio a favore delle famiglie o del genitore che lo avrà a carico fino ai 21 anni.